È stato bellissimo tornare in campo con il gruppo Ma nel periodo in cui non è stato coi compagni per le partite ha cercato lo stesso di non mollare e di allenarsi duramente Certamente è stato difficile perché tutti i giovedì hanno ovviamente ambizione di giocare però è bello stare con questi ragazzi Non ha giocato mai contro una squadra così importante però tutti i giocatori sia l'ambiente che anche i giocatori aspettano di vivere questi momenti Per cui sarà bellissimo però ovviamente proveremo a vincere nonostante la forza dell'avversario e sarà una giornata molto importante Bisogna rimanere concentrati sul fatto e attenti sul fatto che stiamo lottando per non retrocedere Il calendario oggi non è amico nostro Io francamente ero convinto che la vittoria di Brindisi in un certo qual modo ci avesse dato una zampata quasi decisiva E dunque questo così non è Non è amico nostro il calendario perché domenica si affronta la prima della classe E immediatamente dopo si va a giocare uno scontro diretto Dunque questo per me in questo momento è l'aspetto più importante sul quale credo che dobbiamo rimanere concentrati E anche perché poi penso che i sostenitori che verranno domenica al palazzetto hanno pieno diritto di sostenere una squadra che deve andare in campo e deve cercare di dare tutto quello che ha dentro proprio perché stiamo in piena bagarre retrocessione Dunque questo è quello che penso io E chiaramente di fronte chi avremo? Avremo la prima della classe, una società blasonata Credo che anche per questo è inutile mettersi lì a raccontare com'è andata la nostra settimana Apro una parentesi veloce e colpo l'occasione per ringraziare la società della Biola Reggio Calabria Che ci ha cortesemente concesso di fare amichevole infrasettimanale Tra cui avete visto appunto le defezioni che avevamo Viceversa saremmo state in grosse difficoltà a metà settimana per fare allenamento Dunque grazie a loro che ci hanno concesso comunque di avere quantomeno una giornata produttiva di lavoro Dunque dicevamo i primi della classe Insomma indipendentemente da quello che sarà il roster che l'Orlandina presenterà domenica in campo Voglio dire anche se l'Orlandina fosse al completo al 100% Roster con roster Non è che facciamo peccato a dire che l'Armani è in questo momento la società di riferimento La società che ha il roster più profondo con più talento Destinato a vincere il campionato Giocatori di grandissima qualità e tutto Per quello che mi riguarda è una grande sfida contro l'allenatore di un blasone straordinario Di un'esperienza internazionale enorme E dunque detto questo abbiamo di fronte il massimo dei massimi Se la vogliamo giocare come l'abbiamo giocata contro senza offesa per nessuno Contro le altre Ragazzi come vi dico sempre non abbiamo scampo Noi dobbiamo cercare di inventarci qualcosa A per capire se abbiamo oggettivamente possibilità di prendere la partita E B nel momento in cui lo avremmo capito In quanti siamo? 13.000 persone a Capodorlandi In 13.000 cercheremo di prenderci la partita Però chiaramente per me dunque sarà da questo punto di vista una partita affascinante, bellissima Mai un giorno mi sarei sognato di affrontare le scarpette rosse da allenatore avversario Mai mi sarei sognato di essere allenatore di una squadra in cui tra le sue file avrebbe giocato Alessandro Gentile Che conosco da tempi immembre Da sempre Dunque per me è solamente che un piacere Però ripeto poi dopo si alzerà la palla e vedremo che cosa potremmo fare per graffiare l'Armani Jeans Grazie Grazie